Ente scuole di le provincia di Savona ancora una volta insieme per ottemperare e prevenire uno dei più importanti problemi che si possono incontrare all'interno di un cantiere di lavoro, la mancanza di sicurezza. Il Corso della Sicurezza è un progetto che riguarda prevalentemente dei cicli formativi su quattro aree distinte, riferite alla scuola ovviamente, la scuola primaria di primo grado e di secondo grado, la scuola superiore, una formazione agli insegnanti e una formazione ai dirigenti scolastici. Abbiamo attivato un ATS che riguarda prevalentemente una serie di soggetti della formazione della provincia di Savona e insieme abbiamo costruito un percorso di risposta atto a sensibilizzare i giovani delle scuole elementari con delle metodologie del gioco, soprattutto dei giovani delle superiori con una presa di coscienza rispetto alle problematiche della sicurezza sia di carattere stradale, sia di carattere lavorativo, sia di carattere qualsiasi genere proprio e soprattutto abbiamo anche approntato dei percorsi formativi per docenti che a loro volta dovranno trasferire appunto la sensibilizzazione sulla sicurezza nei confronti ai discenti e ai dirigenti scolastici stessi. È un processo di supporto per i docenti e per i dirigenti ma educativo per i ragazzi perché incominciano a riflettere e si portino poi dentro questo percorso in modo tale che anche nel momento in cui saranno inseriti nel mondo del lavoro sappiano in qualche modo vivere la sicurezza nell'ambiente di lavoro come diritto dovere.